Adesso siamo venuti al zoo safari park e siamo appena entrati è gigante gigantesco è molto 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 grande e speriamo che sia nello stesso tempo molto bello adesso vi faccio vedere qui c'è l'entrata Quanto costava questo? 20 euro Allora noi stiamo adesso stiamo entrando e stiamo facendo quale area Chiara? L'explorer village ci hanno consigliato di fare questa perché poi fra un po' cominciano a mangiare gli animali quindi dice è meglio che fate prima questa e poi fate le altre Allora aspettate vi faccio vedere ci sono quei trenini che dovrebbero portarci in giro per il safari Vi faccio vedere anche la piantina è gigante ragazzi è una cosa veramente gigantesca E alle 3 e 45 di pomeriggio chiude apre alle 11 e chiude alle 3 e 45 Allora andiamo a prendere un pulmino così vediamo Allora vediamo se ce la facciamo con questo se no dobbiamo prendere il prossimo Praticamente dobbiamo prendere questo trenino che ci porta nell'area quella che appunto inizia la visita Non ce l'abbiamo fatta parte senza di noi dobbiamo aspettare il prossimo Però è già in arrivo là giù lo vedo Guarda un po' là Dovebbe essere antilogo Siamo scesi qui African Village e vediamo che ci aspetta Allora qui siamo appena entrati Mettono addirittura in tutta l'area ma in tutto il parco ci sono questi ventilatori Che scruzzano pure l'acqua per il caldo Quindi se si sta bene è abbastanza ventilato E poi è diviso tutto in aree vedete Guarda quella è bianca Chi ha? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E' triste. Vedete? Sempre ventilatori e acqua. Infatti l'aria è molto fresca. Lis остановi. Infatti. Già che lo vediamo. Al lying da lying. A viv получается płacono e gr לSwag. là ce n'hai dorme? dorme sull'acqua ma come fa? ma come dorme sull'acqua? attaccato al vetro sembrava anche un ippopotamo quando sta così è un cuccioletto di ippopotamo e la mamma dove sta? le scimmiette sono laggiù allora questa è l'area praticamente dove c'è anche possibilità di mangiare qualcosa quindi come mangiano? andiamo a guardarmi le comitazioni, adesso ti provano ecco ci sto alzando ma sono liberi sono tutti liberi ecco ci sto alzando qua non c'è qualche uccello? fermo? ecco ci sto alzando 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 ma è solo uno poverino è solitario infatti è pure cuccioletto pure questo è un poverso ma che stanno facendo? stia bloccando si butta? stia bloccando perchè stanno venuti con i braccialetti? si butta Non mangia nessuno nemmeno sicuro Ma che carina è Guarda ci sono pure i cuccioletti Guarda ci sono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Speriamo che qui sia un po' più accattivante perché fino adesso, insomma, un po' moschetto.